Cibra Cisca! Grande sorpresa! Grande sorpresa! Lasciatelo venire sul palco! Carola mia Paola! Volevo farvi una sorpresa! Vieni Gianni, vieni! Vieni! Ve lo ricordate tutti? Il trombettista di Elisa Perinna? Che ha deciso di divertirsi insieme alla Danimals Band! Prendi pure il tuo strumento di lavoro e così regaliamo al tuo pubblico, al nostro pubblico un ringraziamento anche a Francesca che è venuta qui alla moglie Maurizio, dopo ti elogio! Un boccione grande! E volevamo elogiarvi appunto con una cumbia tutta dalla voce dello strumento del nostro cell, il nostro new entry della Danimals Band! E vieni con la squadra! Vieni con la squadra! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.